Saranno stati solo 2 su 75 i voti contrari alla relazione di Silvio Berlusconi in direzione nazionale, ma dopo il duro scontro anche sul piano personale con l'ex premier, Raffaele Fitto sembra non essere rimasto isolato. Buona parte di Forza Italia pugliese, a partire dal capogruppo in consiglio regionale Ignazio Zullo e dal consigliere Antonio Scianaro, hanno infatti inviato messaggi di solidarietà all'ex presidente della regione, che da parte sua dichiara di non avere nessuna intenzione di abbandonare il partito, come gli avrebbe suggerito lo stesso Berlusconi. In prima fila Fitto ci sarebbero una trentina di deputati e senatori, molti campani, più Daniele Capezzone, l'unico altro ad andare contro l'ex cavaliere nella riunione di giovedì. Sicuramente Fitto resta Rocco Palese, nel 2010 candidato governatore contro Vendola, è oggi deputato, mentre più dubbia appare la posizione del coordinatore regionale Francesco Amoruso, legato anche alle posizioni di Gasparri, e di Elvira Savino, molto vicina al presidente Berlusconi. I numeri però al sud, almeno quelli recenti, sono dalla parte di Fitto, con le oltre 280.000 preferenze raccolte alle ultime europee di maggio. Schieramenti a parte, lo scontro in direzione mette in serio dubbio lo svolgimento delle primarie del centrodestra previste per il 23 novembre. Data per certa l'esclusione di NCD e Udc, con i quali non verranno fatte alleanze a livello nazionale, se come dice Giovanni Toti la linea la indica Berlusconi, ci sono poche speranze perché la consultazione si tenga davvero. E a quel punto anche Fratelli d'Italia potrebbe decidere di correre da solo, in attesa di capire cosa farà il movimento Schittulli.